Abbiamo trovato un comune quasi in default, eppure abbiamo costruito, rimodulato fondi e siamo pronti a vedere nascere tanti progetti. Così Francesco Roberti nella conferenza stampa è indetta per inviare un messaggio non tanto ai suoi oppositori, quanto ai cittadini. Un messaggio che parla della voglia di portare a termine il programma elettorale nonostante le sirene della regione siano forti. Il primo cittadino di Termoli ha tracciato il bilancio delle iniziative realizzate e intraprese in tre anni di amministrazione. Ma soprattutto di quelle che intende concretizzare nel prossimo futuro. La più importante è sicuramente quella del parcheggio multipiano in piazza Donatori di Sangue. Struttura moderna e completamente autonoma a livello energetico, che verrà realizzata con i 5 milioni di euro inizialmente stanziati per il tunnel. Progetto da sempre avversato da Roberti e che avrebbe dovuto collegare il porto a lungo Mare Nord. Al microfono di Emanuele Bracone il sindaco spiega però che il tema dovrà essere portato in consiglio e poi come annunciato sarà oggetto di un referendum. Il progetto di riqualificazione di Pozzo Dolce siamo riusciti ad ottenere un finanziamento dal Ministero per la riqualificazione urbana di 5 milioni di euro. Abbiamo nel progetto presentato eliminato il tunnel, abbiamo ridisegnato la possibilità di rendere fruibile questo parcheggio di 300 posti auto con ricariche di colonnine, con l'efficientamento energetico perché utilizzeremo una copertura fotovoltaica e quindi anche noi utilizzeremo questa possibilità dei fondi ministeriali proprio per creare l'efficientamento energetico. Non solo parcheggio, il sindaco di Termoli ha annunciato che a breve si concluderanno i lavori della piscina olimpionica. Da 50 metri è stata aumentata a 51, la copertura è in legno, ha pannelli fotovoltaici e potrà essere aperta d'estate. Il primo cittadino ha sottolineato poi la riqualificazione avvenuta delle aree gioco per bambini, la ristrutturazione delle rotatorie. L'idea è però ora di investire un milione di euro per il rifacimento delle strade e 400 mila euro per l'asfalto di via delle Acace. Esaltata dall'assessora al sociale Cicciola l'apertura della spiaggia per vacanzieri con i cani e quella della spiaggia Abile. Infine le scuole con la messa in sicurezza delle strutture di difesa grande, via Tremiti, Principe di Piemonte e il nuovo edificio della Schweizer che a breve vedranno la luce.